Mondiale complicato ma l'Argentina c'è ancora. Sì, non ho mai avuto un mondiale buono quindi speriamo di andare avanti. Già forse passare è un passo importante dopo aver perso le prime due partite, giocando così così, anche oggi abbiamo travagliato un po', ma portando il risultato adesso guardiamo avanti, proviamo a vedere cosa migliorare e cosa fare uguale per poter competere contro gli altri. Diciamo che la partita con l'Iran è stata un po' quella della svolta perché l'avevate avuta in mano, sembrava poteste portare a casa un risultato netto e poi invece vi sia complicata forse per errori vostri. Sì, sicuramente aver fatto 56 errori in una partita non ha aiutato, però sono cose che ci portiamo dietro anche con l'Iran, abbiamo avuto le chance anche oggi, però vabbè proviamo, siamo una scuola nuova, molti giovani, non ci sono tante scuse ma dobbiamo comunque imparare e anche migliorare. Ti diverti lo stesso anche se è andata così così? Vestimi un po' troppo ma sì, mi diverto ancora.